Insieme, più forti, per non subire torti, insieme, uniti, saremo più ascoltati. Insieme, più forti, per non subire torti, 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 insieme, più forti, insieme, più forti, per non subire torti, insieme, più forti, insieme, più forti, per non subire torti, insieme, più forti, insieme, più forti, per non subire torti, insieme, più forti, insieme, più forti, per non subire torti, insieme, più forti, insieme, più forti, per non subire torti, insieme, più forti, insieme, più forti, per non subire torti, insieme, più forti, insieme, più forti, insieme, più forti, per non subire torti, insieme, più forti, insieme, più forti Non volevamo chissà cosa. Desideravamo semplicemente il meglio per noi e per le nostre famiglie. Da soli sarebbe stato molto più difficile. Avremmo disperso molte energie e in alcuni casi sarebbe stato impossibile. Era chiaro che uniti avremmo ottenuto di più. Si trattava di mettere insieme i nostri bisogni e cooperare per farli valere. Un'idea semplice a pensarci bene, ma per niente facile da affermare, come spesso capita alle idee alternative. Noi però sentivamo che saremmo arrivati lontano. Lo sapevamo. Ci abbiamo creduto e abbiamo costruito una grande realtà. Sono trascorsi 150 anni e ancora la nostra idea non smette di ispirarci. Ogni nuova unione può alimentare il nostro sogno. Possiamo diventare ancora più solidi. E questo non cambierà la nostra natura. Continueremo a offrire solo i prodotti migliori, ai prezzi migliori. E se quello che selezioniamo funziona così bene, perché non andare oltre? E iniziare a vendere prodotti nuovi. Potremmo essere sempre più vicini a chi ci sceglie, in qualunque momento. Ci faremo trovare ovunque, nei negozi già aperti e in tutti quelli che apriremo. Nuovi punti vendita, nuovi soci, nuovi prodotti. Tutto parla di una rete sempre più efficiente. Rafforzata al nord, ancora più sviluppata al sud. Così capillare da aggiungere in ogni casa, col nostro marchio e i nostri valori. E non dobbiamo inventare nulla di nuovo per ottenerlo. Ma semplicemente restare uniti e continuare a credere nella nostra idea. Grazie a tutti. Grazie a tutti.